Io ho dovuto ritirare il mio figlio dall'università perché proprio non ce la fai più. Sei costretto a un certo punto a fare delinquente se vuoi vivere. Questi signori la pensi esattamente all'opposto. Questi signori continuano a essere convinti che il fine della politica e quindi il fine di un'azione di un governo sia quello di ridistribuire il reddito in modo da intervenire con la tassazione, proprio con lo strumento tasse per far sì che possa avvenire questa ridistribuzione. Ciò che propongono è di rendere uguali il figlio del professionista con il figlio dell'operaio, di togliere al ceto medio e di dare a quella che loro chiamano ancora la classe operaia. Ciò che propongono è di rendere uguali il figlio del professionista con il figlio dell'operaio. Io ho dovuto ritirare il mio figlio dall'università perché proprio non ce la fai più. Sei costretto a un certo punto a fare delinquente se vuoi vivere.